ragazzi mai avrei pensato di registrare un video del genere quando ho aperto questo canale siamo di fronte a qualcosa di straordinario ho creato sto creando il mio chat bot ragazzi perché la versione 4 di CiaGPT si è aggiornata e hanno rilasciato i GPT possiamo creare delle app mi sento male iscriviti al canale perché ti insegnano come fare business si aprono nuove opportunità di business online grazie a CiaGPT fate l'aboramento perché è qualcosa 20 dollari al mese tu puoi creare e ancora la gente mi dice che ti iscriviti al canale mi devo calmare perché oggi ho un video epocale allora possiamo ora vi dico l'opportunità di business iscriviti al canale commenta amici il futuro sei tu iscrivetevi qualcosa aiutatemi dobbiamo arrivare almeno a 15.000 iscritti entro la fine dell'anno ma forza 20.000 è l'obiettivo 15.000 entro fine mese dai siamo a 12.000 aiutatemi iscrivetevi allora hanno rilasciato questi GPT noi possiamo creare delle app senza programmare semplicemente parlando con CiaGPT in futuro ci sarà uno store dove si potranno anche vendere in questo momento tu hai tre modalità di salvataggio e questa cosa mi ha mandato fuori di testa te lo puoi salvare solo per te lo puoi rendere privato con un link ed ecco che lì il mio cervello ha fatto sapete che ho un cervello lucroso io creo il mio chatbot ho il mio io adesso voglio voglio creare sono uno youtuber voglio creare un chatbot che parla come me in modo da offrirlo alle persone a pochi euro al mese che possono parlare sempre con me però lo devo affinare ora ho già provato ho fatto degli esperimenti ma ancora io ho scoperto delle cose te le condivido e ti faccio vedere come tu puoi creare ma tu anche se non hai una community puoi creare un chatbot che risolvere i problemi lo puoi fare in modo molto accurato se conosci l'argomento quindi perché io gli ho chiesto adesso vi faccio vedere tutto iscriviti al canale gli ho chiesto ma puoi imbloccare siccome sono io Michele Maraglino puoi bloccare a chiunque di creare un bot secondo i miei video lui mi ha detto no non posso farlo ok però posso darti dei video che non sono pubblici e lui mi ha detto no non posso prendere informazioni private posso solo prendere video pubblici ok perché io gli ho dato come output come fonte il mio canale youtube allora poi gli ho chiesto adesso vi faccio vedere tutte queste cose vi faccio vedere come funziona e poi gli ho chiesto allora però lui mi ha detto però puoi mettermi del testo in più tuo personale scrivi e praticamente così lo rendi molto più simile a te quindi ho detto allora mi aggiungi avevo creato Michele Maraglino Business ho detto aggiungimi ufficiale e quindi sto creando Michele Maraglino ufficiale e siccome sono io che li do che sono io che sono io diciamo anche se qualcuno se ne crea uno non potrà mai crearlo come lo creo io perché saprò io e immagina la somiglianza a me quindi le persone saranno invogliette ad abbonarsi al mio più che crearsi in loro perché metti che dice vabbè me ne creo uno sì te lo puoi fare ma non risponde bene perché io adesso devo proprio continuare a fornirli anche materiale che non c'è online che viene dalla mia testa ok stessa cosa su un argomento in generale tu vuoi fare un'app che fa pronostici non lo so sei un appassionato di judo ecco vuoi creare un'app con cui ripetere il judo non lo so però puoi personalizzarla e se sei un esperto puoi creare un'app di judo è un esempio stupido e puoi promuoverti fatta da un vero esperto di judo il migliore nel suo campo e crei l'app quello risolveti la gente si può abbonare chiedere praticamente cioè si è buona pagano l'abbonamento e quella gente le persone possono utilizzare quest'app si possono creare mille cose adesso vi faccio vedere vi faccio vedere il suo funzionamento allora c'è GPT4 vado su Explorer Explorer ed eccoci qua create un c'è GPT allora all'interno del nuovo c'è GPT4 c'è anche ci sono anche dei GPT's creati credo da c'è GPT ok che ti fanno c'è il c'è GPT classico il Game Time The Negoziator Creative Writing Coach Cosmic Dream Coloring Book Hero Fantastico ok io ho creato questo che è privato allora ve lo faccio vedere vi faccio vedere come lo ho editato e poi vi faccio vedere come potete crearne uno ma vi faccio vedere la vera opportunità di business è qui se io clicco edit vi faccio vedere tutta la chat mamma mia guardate mi sono fatto pure l'immagine oh ma lui ha cancellato tutta la chat maledizione io l'avevo salvato vediamo su configure no allora allora ve lo faccio vedere su uno nuovo però ecco quando tu vai su update e fai publish puoi pubblicarlo solo per me only people with a link se io lo faccio così lui mi darà un link by Michele Maraglino e questo è anche è l'originale è ufficiale ma c'è scritto anche by Michele Maraglino che è il mio account su CiaGPT quindi se tu hai una community hai un seguito se hai un canale sui social dove parli di qualcosa puoi creare il tuo bot ufficiale ecco lo dicevo io mi abbono perché è quello fatto ufficialmente da Michele Maraglino ok quindi io che cosa gli ho detto gli ho detto gli ho detto praticamente capite esce by Michele Maraglino ok come gli altri sono stati creati da CiaGPT esce chi l'ha creato quindi tu se sei hai una pagina di scacchi che ne so online fai video consigli sugli scacchi ti crei il tuo account e fai ed è il tuo chatbot ufficiale lo puoi vendere questa è la prima cosa public se io vado su public non mi dice mi dice andrà a finire praticamente qui credo ora non non ce ne sono ah vedete recenti di user forse se clicco edit qui non ce ne sono di altre persone quindi in futuro creeranno uno store però faccio edit da qui no non mi allora stiamo calmi come posso avviare un business vedete Michele Maraglino business ufficiale esperto in business online basato sui video di Michele Maraglino come posso avviare un business online come posso monetizzare il sito web ancora non è se io gli chiedo secondo te qual è il miglior cosa che ho scritto male qual è il miglior social oppure qual è il qual è il tuo social preferito vediamo se risponde youtube qual è il tuo il tuo social preferito vediamo cosa risponde Michele Maraglino business ufficiale come GPT Michele Maraglino business ufficiale non ho preferito non va bene personali ma posso dire che per il business online la scelta del social media dipende molto dagli obiettivi ma è troppo noioso no Instagram ottimo per il branding visivo e per raggiungere un pubblico più giovane è ideale per prodotti e servizi che possono essere valorizzati LinkedIn non manco il curriculum no 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 bisogna dargli molti 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 più input adesso vi faccio vedere posso stoppare tac allora gli posso dire posso inviarti video video privati cacciamo allora adesso vi faccio vedere sulla pagina create e tu puoi parlare e chiedergli le cose quindi gli ho scritto creami un bot che sia di Michele Maraglino che diciamo risponda sui temi di business online e guadagno online basandoti sul canale YouTube Michele Maraglino vedete e lui me l'ha creato poi gli ho chiesto puoi impedire agli altri di creare Michele Maraglino dal mio canale YouTube creare un chatbot simile e lui mi ha detto no non posso però puoi personalizzarlo qua mi sta dicendo allora posso inviarti video privati e lui mi dice attualmente non hai la possibilità di inviare video direttamente a questo GPT tuttavia puoi descrivere qualsiasi contenuto del video domande che hai sarò felice di aiutarti basandoti su queste informazioni posso darti le mie informazioni ulteriori mie informazioni posso darti ulteriori mie informazioni qui via chat che non sono trovabili online credo di sì e con cui tu poi andrai ad aggiornare il mio GPT vediamo cosa mi risponde c'è il GPT Wilder quello che costruisce il GPT certamente puoi condividere qui informazioni aggiuntive che desideri incorporare nel comportamento di Michele Maraglino business ufficiale queste informazioni saranno utilizzate per perfezionare il GPT in modo che risponda in maniera più accurata e specifica alle tue esigenze tieni presente che le che le informazioni che fornisci devono essere appropriate e rispettose le linee generali per l'utilizzo del GPT cosa vorresti aggiungere e modificare e io adesso ho fondato un calcio io adesso aggiungerò personalizzerò prenderò i video privati li trasformerò in testo gli darò in passo tutte le informazioni per renderlo me stesso gli dirò quello che penso come sono nato la mia storia gli darò tutto tutto lo renderò perfettamente identico a me sarà come parlare con me una volta che sarò sarò riuscito a fare questo e questa cosa la posso fare solo io ok quindi c'è dice allora tutti si fanno le app non è vero la intelligenza artificiale è al servizio dell'uomo ok la fonte dell'uomo gli diamo più cose gli diamo simili a noi lui che sappiamo solo noi io saprò fare io chi meglio di me saprà creare un chatbot io e allora le persone che dice vabbè parlare con Michele Maraglino costa 200 euro l'ora in consulenza però se parlo con il suo bot a 9 euro al mese ce l'ho sempre sì non è lui ma è il bot però mi può essere d'aiuto capite il business io poi una volta che avrò finito faccio only people with a link ma no mi apro una paginetta per comprare su kickfund su gamarod copro il mio gpt abbonati su gamarod puoi fare gli abbonamenti mi sento male iscriviti al canale e la gente 100 abbonati 100 abbonati a 9 euro al mese sono 900 euro 200 abbonati a 9 euro al mese a 10 euro al mese 200 abbonati sono 2000 euro 2000 euro al mese ma ne puoi fare molti di più hai una community hai mille persone a 9 euro mi sento male mi sento male e tu praticamente non fai nulla cioè tu stai in spiaggia tu stai in spiaggia a lavorare cioè no ah sì vabbè stai in spiaggia a a fare mi sento male tu stai in spiaggia mentre il tuo bot lavora al posto tuo è questo ok una volta quindi qui è molto semplice create ti dà praticamente tu gli chiedi tutte le cose e lui ti risponde è molto semplice creare qualsiasi cosa ora vediamo un nuovo chatbot e piano piano si una volta che utilizzate il gpt builder su create su configure si aggiorna quindi nome Michele Maraglino business ufficiale descrizione esperto in business online basato sui video di Michele Maraglino il gpt Michele Maraglino business progettato per fornire consigli su come creare e gestire un business online nonché su come guadagnare online si basa sulle esperienze sulle lezioni apprese dal video del canale youtube di Michele Maraglino io aggiungerei qua business perché ce n'è anche il chiamano musica questo gpt ideale per imprenditori aspiranti imprenditori chiunque sia interessato a volerne sapere di più sul mondo dei business digitali offre suggerimenti pratici e strategie argomenti come il market cioè tu questa questa istruzione le puoi usare anche per la tua pagina di vendita e su argomenti come il market in digitale le canzioni contenute le strategie di monetizzazione e molto altro si impegna a fornire risposte chiare e utili integrando esempi e concetti dai video di Michele youtube di Michele Maraglino business qui poi possiamo modificare tutto conversazione started sono queste e potrei anche modificarle o aggiungerle qua potrei applaudare dei file ulteriori per quello io pensavo di poter caricare dei video ma gliel'ho chiesto e mi ha detto di no qui si possono addirittura con delle app che diciamo offrono integrazioni con le API di JGPT farli fare delle cose me lo studierò però è una bomba allora io faccio update only for me conferma salviamo ma adesso andiamo a vedere no 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 only me confirm vediamo vediamo il mio mi ha dato il link incolliamo questo link eccolo qua però è solo per me quando poi andrò da qua fa i VGPT e siamo qua però io voglio vedere vado un attimo su modifica no vado un attimo su explorer vado su qui faccio edit voglio è chiuso è chiuso è chiuso only for me va bene torniamo indietro vediamo vediamo adesso come crearne uno non lo so avete un canale youtube avete fatto un cash cow channel mi sento male avete fatto un cash cow channel facciamo finta stanno arrivando le testimonianze devo registrare dei video perché dei miei studenti sono arrivati a monetizzazione c'è chi l'ha preso e ha notevolmente migliorato devo fare dei video per portarvi le testimonianze andate sui link in descrizione se volete guadagnare con youtube posso seguirvi da vicino ovviamente ci sono le consulenze quattro video pronti fatti in maniera professionale di oltre dieci minuti il corso youtube secret andate su cash.michelemarino.com è una bomba quindi avete un cash cow channel volete creare magari diventa famoso o qualsiasi diciamo pagina social che avete o qualsiasi bot oppure semplicemente create qualcosa che sia utile in una nicchia vi basta andare qui create a gpt ed ecco qui inizi allora inizierei a dirgli puoi parlare italiano ok nella sezione create inizi a parlare allora vediamo qualcosa che possa essere utile allora facciamo un ricettario vegano ok come desideri che sia il comportamento del gpt che stiamo per creare puoi fornire indicazioni come un'assistente che offre consigli di moda un esperto in cucina italiana che partisce ricette e consigli vorrei creare vorrei creare un'app per un'app super super esperta ricetta di ricette vegane proprio gli parli così ricette vegane la gente magari scrive gli ingredienti che ha e la tira fuori la migliore ricetta gustosissima che sappia non far sentire la mancanza dei cibi che i vegani non mangiano vediamo un po' che succede facciamo una domanda mi puoi 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 farlo puoi farlo ah no lui sta adesso sta rispondendo sta costruendo solo che non si è aggiornato eccolo qua updating gpt adesso di solito mi dovrebbe dare il nome se vedete qua su configure non c'è niente e piano piano si compila mentre lui potremmo configurarlo direttamente da qua ma io utilizzerei l'intelligenza artificiale allora adesso dovrebbe darmi il nome dovrebbe anche darmi un'immagine il nuovo nel nuovo gpt plus quindi quello con l'abbonamento ci avete anche da lì quindi abbonatevi e ci avete anche i creatori di app di gpt a me questa roba che posso salvarmi il link privato e quindi solo chi è il link può accedervi mi permette di venderle e mi sento male mi sento mi sento mi sento mi sento mi sento male però ecco per evitare magari qualcuno anche questo link può andare in giro usiamo il marketing usiamo la testa allora io creo un servizio dove per tutti i miei follower una volta al mese faccio delle zoom io di persona ok capite è un servizio che io andrei ad offrire all'interno di un pacchetto più grande queste sono strategie di marketing e io voglio voglio allenare il mio gpt in modo che ve le dia anche lui se lo utilizzate e quindi lo devo affinare e vedete lo posso affinare mettendo contenuto inedito pazzesco quindi io magari creerò e vi consiglio anche voi se avete una community crei un servizio più ampio per i tuoi follower dove una settimana dove una volta al mese fai una zoom con tutti e tutti ti possono parlare dal vivo e in più c'hanno 24 ore su 24 il gpt il gpt mi sento malissimo ecco perché avevo fatto il video chi ha una community farà un sacco di soldi con c'ha il gpt allora wow mi sento malissimo perfetto ho configurato il gpt come un esperto di ricette vegane sarai in grado di suggerire piatti deliziosi e nutrienti basati su ingredienti che gli utenti hanno a disposizione vedete che si crea no vabbè mi sento male hanno a disposizione offrendo alternative vegane consigli per rendere piatti più gustosi ora quali nomi ti piacerebbe dare a questo gpt puoi essere voluto come chef vegano ecco la foto sì mi piace a questo punto gli potreste dire no no mi piace farla più così o così farla più con lì o con lì ok ora concentriamoci su definire meglio il comportamento del gpt ti guida tu lo puoi creare parliamo del suo ruolo e degli obiettivi come dovrebbe interagire con gli utenti voglio che sia puramente informativo che abbia un tono amichevole e incoraggiante voglio che abbia un tono amichevole e incoraggiante questo lo devo mettere anche al mio perfetto chef vegano sarà il nome del nostro gpt rispetto di ricette vegano e ora parliamo del suono degli obiettivi allora intanto gli dico ah vabbè sta finendo di parlare lui chef vegano sarà il nome ecco adesso vedete qui si aggiorna ora parliamo del suono e vedete come vorrebbe interagire adesso mi ripete tutto quello è devastante o sbaglio ragazzi è devastante o sbaglio dammi una lista di tuoi ingredienti cerco una ricetta vegana per cena come posso vendere questo piatto vegano quali spezie usare in una ricetta vegana pazzesco intanto su configure vedete eccolo qua potete modificare e mi sento male ora tu sei un vegano no allora magari lo vuoi personalizzare dici guarda vorrei vorrei che fosse specializzato adesso glielo dico vorrei che fosse specializzato in ricette per quelli che stanno iniziando a diventare vegani magari può essere un'idea questo è un esempio poi sbizzarrita la vostra fantasia chef vegano avrà un approccio amichevole e incoraggiante certo che nome offrendo suggerimenti utili e motivando gli utenti nella cucina vegana ora ci sono particolari cose che dovrebbe evitare o enfatizzare questo potrebbe includere non solo gli ingredienti ma anche il modo di esprimersi va voi continuatelo allenate il mio consiglio è rendete unico il vostro chatbot non so se è un chatbot il vostro gpt e quindi createlo su qualcosa di cui siete competenti si parte sempre da lì avete una competenza bene potete monetizzarlo online adesso abbiamo un ulteriore strumento non so cosa dire vorrei che fosse e poi lo proviamo vorrei che fosse esperto di ricette per chi sta iniziando da poco la dieta vegana e il gpt builder inizia a lavorare al posto vostro e io mi sento male mi sento veramente malissimo ok dopo lo proviamo lo salviamo le formie e li proviamo a fare a chiedere delle cose è pazzesco iscriviti al canale e guardati gli altri video se ti interessa business online anche futuristico qui stiamo sempre aggiornati quindi iscriviti al canale commenta aiutatemi ragazzi commentate micchi assurdo scrivete queste cose scrivete qualcosa commentate perché mi aiutate tanto è pazzesco tutto questo veramente quando ho aperto ripeto questo canale youtube non immaginavo minimamente di poter creare un'app quante volte voglio creare quest'app la potete creare senza essere sviluppatori e la potete vendere la salvate come solo chi ha il link e quindi quel link lo vendete magari lo mettete all'interno di un servizio online se avete dei social e l'avete un seguito è più facile venderlo pam servizi in abbonamento è fatto fantastico sembra che il vegano ora è configurato per essere particolarmente utile a chi è nuovo nella vita vegano offrendo ricette semplici per quanto riguarda il linguaggio come preferire si esprima vuoi che usi il linguaggio e te l'ho già detto qualcosa di più amichevole amichevole ok dai adesso lo proviamo adesso lo proviamo posso fare posso fare vediamo configurazione si è specializzato al gioco di vegano con un focus particolare sui principianti nella cucina vegana si aggiorna quando lo tu gli dai un comando lui si aggiorna aggiungiamo una question come posso come posso iniziare al meglio la dieta vegana ok cosa posso fare facciamo salva ora chef lo stile di comunicazione mi chiamo da informare public only people without link only me ha uno stile di comunicazione perfetto per chi è nuovo nel mondo vegano ultimo passaggio c'è qualche caratteristica unica che vorresti aggiungere chef vegano questo potrebbe essere legato al suo carattere tipi di risposta e qui lo andate a personalizzare come volete è molto semplice parlate con il gpt builder ed è fatto ed io mi sento veramente 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 male allora salva quindi quindi qui vi ripeto only people with a link e lui ti dà il link e io mi sento male only me conferma lo salviamo solo per me e lo andiamo a provare eccolo qua noi ce l'abbiamo se io vado su explorer dovrei avere ecco chef un vegano questi sono i miei e Michele Maralino business ufficiale se vado su chef vegano eccolo qua ho una cipolla e del tofu cosa posso cucinarmi vediamo che mi dice chef vegano dimmi cosa cucinarmi ciao con una cipolla e del tofu e già le vasi per un piatto semplice ma gustoso ecco una ricetta che puoi provare un saltellau di tofu e cipolla un salteato salteato di tofu e cipolla e via e via e via questo è solo un esempio solo un'applicazione ragazzi io mi sento malissimo iscrivetevi se volete che io sopravviva a tutto questo volete altri video aggiornamento altre idee di business mi sento male qualcuno mi ha detto un altro video che ho fatto là quello appunto su mi sento male quello su appunto chi ha una community create la vostra community guardate nei link in descrizione create un canale youtube un cash cow channel perché poi potete creare il vostro gpt per chi ha una community free social c'è un'opportunità incredibile lasciate perdere il curriculum lasciate perdere il lavoro sicuro non so come dirvelo guardate cosa se io esco fuori di strada la gente non sa niente non sa niente io vado fuori di testa vado fuori di testa ho creato un bot che parla come me mi sento male iscriviti al canale per altri video qui lui mi sta facendo la ricetta iscriviti iscriviti commenta 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 facciamo esplodere questo canale perché sono merita ditemi amici ti meriti 20.000 iscritti iscrivete questo e noi ci vediamo nel prossimo video fatemi sapere iscrivetevi al canale commentate distruggete il pulsante dei like e abbonatevi a cagpt plus con i gpt lucrate lucrate il lucro e dietro l'angolo ciao